Previsto per domani, lo start alla decima giornata del campionato di eccellenza e promozione. Per la massima serie regionale apre il girone all'IFE Treppini-Matese. I ragazzi di Mister Geloso, reduci da un pareggio senza particolari colpi di scena, porteranno in campo tanta determinazione e concentrazione per cercare di stazionare nei piani alti della classifica contro la formazione di Mister Morra, intenzionata a risalire dopo la brutta sconfitta della scorsa giornata di campionato. Arbitraggio a cura del signor Saluppo di Campobasso. Il sesto campano incontrerà sul proprio campo lo Spinete, anomalo l'inizio di stagione dei Biancorossi, autori di soli quattro punti. I sestesi ci avevano abituati a ben altri andazzi. Lo Spinete di Torraco vuole tornare a fare punti dopo la buona prova terminata con una sconfitta contro il Vulcania, portata a casa domenica scorsa. Arbitro del match, il campobassano Valerio De Castro. Chiude gli anticipi in eccellenza il Campobasso 1919, che se la vedrà con il Boiano al nuovo antistadio Acli di Selvapiana. I Biancorossi sono in cerca di punti per garantirsi quantomeno una salvezza tranquilla, mentre la formazione di Mister Di Niro deve ancora sbloccare un brutto zero che relega il rosso-blu all'ultimo posto in classifica. Occhi aperti per il Boiano Di Gioffre, che cercherà di ripartire dalla prova positiva evidenziata contro la capolista Isernia. Il direttore di gara sarà il signor Cicchini di Termoli. Scendendo in promozione, è un match tutto casalingo per l'Ururi, che incontrerà il Termoli 2016. I giallorossi hanno portato a casa molte soddisfazioni, potendo contare nella scorsa giornata di campionato su un'ottima forma fisica del solito Gaggiano, autore del gol vittoria contro la Cliternina. I ragazzi di Mister Cardamone hanno l'obiettivo di rimanere nelle zone alte della classifica. Arbitro del match, l'Isernino Davide Mastroianni. Infine chiude gli anticipi con Prensorio Vairano Carovilli, incontro che si giocherà allo stadio Cantelmo di Vairano. I rosso-blu, reduci dalla sconfitta della scorsa giornata, tenteranno di dimostrare ai propri tifosi e al proprio staff di che pasta sono fatti. La formazione di Mister Grieco porterà in campo la propria rosa migliore per rendere difficile la vita ai prossimi avversari. Arbitraggio a cura dell'Isernino Raffaele Maglioli, con l'assistenza di Mario Di Falco e Giuseppe Belvedere.